L'incontro di questa mattina nella sede della Giunta regionale fra la struttura commissariale e di rappresentanti del Gemelli ha aperto degli spiragli positivi. Si intravede una schiarita nella questione radioterapia del Gemelli essenzialmente su due questioni, il mancato accordo sul contratto 2023 fra Gemelli e Asrem e lo stop della radioterapia del Gemelli ad accogliere nuovi pazienti dal primo marzo. Si è parlato per la prima volta di comporre una commissione per stabilire il costo delle prestazioni. Si è arrivati a prendere atto della circostanza che forse la tariffa proposta non è una tariffa che riesce a coprire i costi e quindi il commissario, la struttura commissariale ha chiesto allo stesso Gemelli di concorrere a comporre una commissione per valutare qual è il costo effettivo della prestazione che andrà rapportato col costo ben più alto che le altre regioni, con le tariffe ben più alte che le altre regioni hanno per la stessa attività di radioterapia. Stretti i tempi per la costituzione della commissione? Già oggi il Gemelli fornirà il nominativo dei tecnici, che sono poi l'oncologo radioterapista, e i due tecnici per valutare esattamente le prestazioni e i costi e quindi nei prossimi giorni, forse lunedì, si definirà anche il percorso per i crediti. Una volta accertate queste nuove tariffe, riaprire con regolarità la disponibilità del servizio di eccellenza della radioterapia? Noi oggi siamo davvero soddisfatti di questo incontro programmatico. Una volta accertati questi costi, questo è un principio condivisibile e oggettivo, potremmo finalmente riaprire la radioterapia e offrire questo servizio di eccellenza che i molisani hanno e devono tenersi stretto. Il presidente del Gemelli Petracca, memore delle precedenti diatribe, non va oltre un semplice auspicio. Lo spero, quanto prima. È positivo che ci siamo incontrati e si inizia a lavorare. Quindi una apertura alla verifica dei reali costi del servizio, ma sempre tenendo conto di quanto fissato a livello ministeriale. Convinto che bisogna attenersi alla situazione concreta del Molise, quindi della struttura Gemelli Molise. Capiamo bene qual è il costo delle prestazioni di radioterapia per il Gemelli Molise, dopodiché io voglio ragionare col tavolo tecnico perché in relazione ai risultati che verranno fuori si potrebbe prendere una decisione sempre autorizzata dal tavolo tecnico, anche differente da quelle precedenti.